Ischia come meta delle vacanze natalizie e di Capodanno. Chiediamo ai turisti che sono in giro per il corso come mai hanno scelto la nostra isola. Come ho detto prima, ci è piaciuto l'anno scorso e siamo tornati. A me mi piace da morire. Dormirei anche qua. Lei? Io amo fare le terme, i fanghi, mangiare tanto e bene. E qua quest'isola corrisponde proprio a tutte le mie aspettative, quindi ci torno. Anche in inverno vi piace Ischia? Sì, meglio d'inverno che d'estate. Come vai, come vai? È più tranquillo, nel senso che c'è sempre le solite rutini, magari mare, albergo. Ci fanno delle cose differenti. Io per la temperatura, perché a Milano troppo freddo, nebbia e solito invece qui si respira diverso. Sì, come hanno detto loro, è già il terzo inverno che vengo e ci torno. E lei? Si sta benissimo. C'è solo un problema. Portare al sindaco una cosa di non far passare più troppe macchine. Perché qua stiamo peggio che a Milano. Stiamo peggio che a Milano. Glielo dica al sindaco. Io sono quattro anni che vengo qua. Mi piace Ischia, poi è bella temperatura, è più caldo. Poi io sono meridionale. Abito a Parenza, ma sono meridionale. Lei come mi ha scelto Ischia? Perché a me piace molto. E una volta all'anno vengo sempre. Sì, specialmente per l'ultimo. E lei? Io è la prima volta che vengo, ma con i nostri amici qui è comunque bellissimo. Mi piace. Spero di tornarci ancora. Sono qua da Natale, non da poco. Sono qua e sono scappata da Napoli. Perché troppe luci, troppo chiasso, non mi sta più bene. Lei signora, come trova Ischia a Natale? È meraviglioso. È meraviglioso. Veramente. Io sono napoletana e vengo qua, sono venuta quando ero piccola e adesso. È un'isola che si dà abbastanza da fare. La vergogna è lo schifo totale, anzi ditola ai vostri municipi, via dicendo, sindaco anche. Che questa vergogna che sta vicino al mare, è da terzo mondo. Vediamo una via Roma meravigliosa, tutta bella pulita, tutta con belle vetrine. Basta spostarsi un poco. I turisti non è che ci facciamo una bella figura. E poi diciamo il turismo a Napoli o a Ischia o a Capri. Capri è meravigliosa. Lei sta parlando dei canaluni? Ischia lascia ancora desiderare. È inutile che poi sono gelosi ai Capri. Stanno delle costruzioni decrepite, dei fiori, erano una volta dei fiori, dei vasi completamente abbandonati, brutti, sporchi e vecchi. L'asfalto non ne parliamo proprio, è tutto abbandonato. E le case sono faticenti, delle case impossibili da guardare.